Tra i concorrenti della prossima edizione di tale e quale show c'è anche la mitica Giustine Matera. Carlo Conti, che tornerà anche al Festival di Sanremo dopo l'addio di Amadeus Allarai, ha svelato il cast già qualche settimana fa e per annunciare i concorrenti ha condiviso su Instagram uno screen di una nota del suo smartphone con 11 nomi. Sono Roberto Ciufoli, Amelia Villano, Kelly Joyce, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Tomas Bocchimpani, Faisal Bonciani, Massimo Bagnato, Simone Annichiarico e, appunto, Giustine Matera. Il suo nome è stato accostato allo show anche in altre occasioni, ma solo quest'anno è stata confermata la sua presenza nel cast. Ma ecco spuntare un retroscena curioso, il motivo per cui quest'anno Giustine Matera ha detto sì. A lanciare l'indiscrezione è il giornalista Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, dove fa intendere che la partecipazione della showgirl potrebbe essere stata un ripiego. In pochi sanno che la scelta di accettare l'offerta Rai nasce come un ripiego, seppur di lusso, si legge nell'indiscrezione, ha deciso di accettare solo dopo che negli ultimi due anni non è riuscita a superare alcun provino a Mediaset. Pare, dunque, che Giustine Matera abbia deciso di partecipare a tale e quale show 2024 solo dopo non aver superato i provini per i reality Mediaset, probabilmente per programmi come Grande Fratello o Isola dei Famosi. Nessuna conferma però, lei ha di più, si è detta molto agitata ma motivata a mettersi alla prova. Il video finisce qui ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.